dal mio canale e da quello del mio amico lorenzo di investire in borsa a caccia di dividendi e su numerosi forum articoli siti internet si parla di quanto sia bello andare ad investire in dividendi e di come sia più bello andare a vedere un cash flow sempre costante che cresca nel tempo ma non è tutto così semplice oggi voglio andare a criticare assolutamente il mio personale modo di investire perché per poter crescere nella vita e finanziariamente l'autocritica è l'arma principale stai fino alla fine del video perché ne vedremo delle belle ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aif ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso lo volessi acquistare prima di tutto volevo scusarmi perché questa settimana non vado a pubblicare i giorni di cui solito pubblico e anche il numero di video che di solito pubblico ma sono stato male non so si sente dalla voce e continuo a stare male per cui mi dispiace da settimana prossima recupero dividendi un amore a prima vista vedere accreditare ogni mese qualche soldino e poi vedere crescere questo introito mese dopo mese ha un effetto veramente interessante sulla mia psicologia i primi due euro di dividendo di realty income mi fecero sentire quasi ricco e immagino una pensione con la panza al sole con quei due euro al mese ma non è tutto oro quello che luccica prima di iniziare questi non sono consigli finanziari ma solo una serie di considerazioni a scopo prettamente didattico per cortesia non prendere quello che io ti dico adesso come oro colato ma usa la tua testa per valutare le mie considerazioni e per crescere facendo critica nei miei confronti e autocritica nel tuo modo di investire il primo problema del vivere completamente dividendi è relativo al dividend yield un dividendo costante con un payout razio di sostenibile nella maggior parte dei casi non è un alto dividendo ovviamente questa non è la regola principale ma è assodato che un'azienda con uno stato patrimoniale ottimo che investe molti dei suoi utili che paga dividendi da decenni non abbia un dividendo del 10 per cento anno come dicevo nella regola fondamentale ma non è neanche diciamo la prassi non dico sia impossibile ma è a quanto improbabile sono delle mosche bianche se così le posso definire anche se si guarda da alcune aziende italiane a grande capitalizzazione come mi viene in mente intesa san paolo o similari che hanno dividendi generosi dobbiamo constatare che purtroppo in molte occasioni queste aziende hanno interrotto o cancellato completamente il dividendo voi vi immaginate ad essere in pensione cercare di vivere dei vostri dividendi e magari questo viene sospeso se prendiamo poi l'indice di riferimento americano questo famosissimo a standard più 500 un dividendo al momento dell'1 69 per cento circa desiderare di vivere la propria pensione di dividendi lascia il tempo che trova se non si è accumulato una grossa somma investita anche per le obbligazioni di discorso identico qui si parla sia di azioni che di obbligazioni singole che di etf all'aumentare dello yield aumenta il rischio se si pensa di voler vivere solo con lo yield meglio del mercato americano ad esempio e se non si dispone di una somma importante si andrà sicuramente ad abbassare il proprio tizionare di vita nel momento in cui si dovrà andare in pensione il secondo problema è relativo al fatto che in alcune situazioni di mercato le aziende come dicevo prima e menzionavo prima possono decidere di ridurre il proprio dividendo o tagliarlo completamente le cosiddette dividend aristocrats o le dividend kings possono uscire da questi indici o status se si trova in uno stato di difficoltà legate magari al mercato di riferimento o a un business particolare per cui anche un dividendo basso di una famosa dividend aristocrats e per cui considerato sicurissimo a un certo punto potrebbe essere interrotto o tagliato e magari ci si ritrova con johnson and johnson da 263 per cento duale che per motivi vari ad esempio ipoteticamente per un'azione legale legata a un farmaco che è fallito o una grossa crisi di settore possa tagliare il proprio dividendo e se si è pianificato la maggior parte della propria allocazione dei propri fondi su un dividend yield di una aristocrats come esempio johnson and johnson solo perché la si percepisce come sicura e duratura ci si potrebbe ritrovare con un proprio cash flow completamente dimezzato o azzerato e se sei in pensione la differenza senza più uno stipendio che ti entra tutti i mesi la noti e la noti sì e come e puoi andare sinceramente in serie difficoltà anche le aziende migliori e le aziende più solide potrebbero tagliare il proprio dividendo per ragioni completamente impreviste il terzo problema è relativo al potere di acquisto moltissime aziende aumentano il proprio dividendo come menzionavo prima le dividend aristocrats ad esempio ma se ti capita in un periodo come quello odierno ad alta inflazione pur ricevendo una buona fetta di liquidità mensili non è detto che il tuo potere di acquisto il potere di acquisto dei tuoi dividendi ti permetta di vivere in maniera tranquilla in questi periodi molto particolari è vero che a una certa età non deve andare a fare l'aperitivo sui navigli a milano tutte le sere ma se il tuo potere di acquisto viene eroso e il tuo flusso di cassa aumenta in una percentuale minore rispetto al tasso di inflazione andrei solo a ritrovarti ad avere la possibilità di comprare meno beni con la stessa quantità di denaro di cash flow mensile e poi se hai un capitale basso come accennavo prima primo punto appunto potrebbe essere un problema da non poco il quarto punto è che molti investitori da dividendo si concentrano troppo sullo yield e poco sull'azienda e per questo poco sul capital gain investire in dividendi significa soprattutto cercare aziende buone avere aziende che ti danno un 3% di dividendo anno ma resta sempre piatta magari per decenni col valore delle proprie azioni che non ha la stessa qualità di un'altra che ad esempio ti potrebbe dare solo l'uno per cento di dividendo anno ma che magari ha il proprio valore delle azioni che crescono con un CAGR annuale del 4 5% questo ti porterebbe ad avere un rendimento complessivo medio anno del 6% lordo meglio sicuramente di una distribuzione più cospicua lorda magari del 3% come dicevo prima ma che non genera capital gain una giusta analisi delle aziende o degli etf che vogliamo aggiungere al nostro portafoglio può fare un'enorme differenza di quello che avremo fra molti anni in tasca guardare solo un mercato ad esempio quello italiano prendendo solo aziende magari large cap con un enorme dividendo ma non pensare a fare anche crescere il proprio capitale può portarci ad avere un capitale molto ma molto più cospicuo alla pensione se invece optiamo per la soluzione che ho detto prima non solo dividendi ma anche la possibilità nel caso ad esempio di eventi inaspettati di poter vendere alcune delle nostre quote alcune delle nostre posizioni senza avere paura di rovinare la propria condizione finanziaria di cash flow mensile quali sono le soluzioni per ovviare a tutti questi problemi che ho appena citato lasciare completamente l'investimento da dividendo è la soluzione no altrimenti lorenzo che mi segue non solo sul canale mi andrebbe a seguire anche con un bastone in mano e perlomeno anche io mi seguire me stesso con un bastone in mano ma ci sono degli accorgimenti da seguire quelli che seguo io per i miei investimenti sono questi mi permettono di avere una migliore ottimizzazione dei miei dividendi del mio cash flow mensile la prima cosa da fare è di diversificare in termini di prodotti aziende zone geografiche e valute in questo modo si ottengono una serie di cuscinetti se così li possiamo definire tra virgolette che seppure non ci permettono di eliminare completamente i rischi li abbassano fortemente nella dinamica del portafoglio completo la seconda cosa è che avere un mix di questo tipo ci permette anche di diversificare per gli infatti in questo modo andremo a prendere aziende con il molto bassi ma altre anche con distribuzioni più generose riducendo il rischio ma aumentando il nostro il nostro cash flow mensile a quel punto la somma da accantonare per avere un cash flow dignitoso e che non sia sempre in pericolo sarà più bassa di quella che sarebbe necessaria affidandosi solo alle aziende sicure in linea di massima si può dire che studiando bene un portafoglio da dividendo e usando delle regole di buona educazione finanziaria del buon padre di famiglia se così si può dire si possono ottenere grandi risultati con i dividendi anche con delle somme non eccezionali dividendi che io amo alla follia bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma a te costa veramente un attimino ma per me ti posso assicurare che significa il mondo se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo poi se vuoi organizzare un accordo di educazione finanziaria puoi trovare qui sotto il link in descrizione anche per oggi è tutto e non mi rimasto solo che salutarti e arrivederci in un prossimo video a presto iscriviti al canale